Buonasera ragazzi, bella, è venuto in un nuovo video, scusate se parlo come Favij, anche se non ci assomiglio un peletto a quel povero fanciullo, vabbè, allora praticamente ragazzi oggi vi farò vedere alcuni dei miei tiktok, scusate se non faccio video da molto tempo, ma è che ora ho un po' di tempo quindi vi farò vedere i miei tiktok, quindi ragazzi vedeteli bene e alla visione! Bello! Posso giocarci anch'io? No perché sei brutta, chi lo dice lui è facciata bidet, vedi l'ha detto sei un bidet, no è specchio riflesso, sei brutto sei un cesso, vai via che glielo dica la maestra, glielo dico io che cammino, che bello! Vabbè Per lottare i 10 iscritti, cosa farei ovviamente per vincere 10 iscritti? Cosa facete voi? Tonto, 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 dove sei? Questi sono i miei iscritti, non si ruono! Per lottare i 10 iscritti mi definiscono così, perché mi dicono che sono un cane, ed è la verità, questo volto ragazzi mi piace? Per lottare i 10 iscritti, non si ruono, non si ruono, non si ruono, non si ruono, non si ruono! Non lo sai usare il computer, giusto? No Eccomi qua, eccomi qua Testo per vedere se hai il coronavirus Gli scienziati dicono che se trattenete il respiro per 10 secondi e dopo tossite probabilmente siete infettati Adesso ci proviamo Ok, non siamo infettati Provate Normali A football Allora, sì, ce l'ho fatta Due, tre, non ce l'ho fatta Cosa faccio io? Adesso, dovevo il canestro? Sì, è un paio, non è stato un paio Cosa farei per scambi? Ciao Che stai facendo, squinti? Sono occupato In una scala d'8 a 9, quanto pensi di essere occupato tu? Quattro te c'è il coedio, non sono un matematico, ma mi sei... Ciao Oh, dimmi, ciao Ciao Ah, vorresti una patatina? No, ora... No, guarda, sennò esplodi Ma io non la voglio, infatti La voglio a parte... Magia l'era 100 Guardate, raga Raga, questo è finto Volevo fare una cosa così, ma è finto Nessun trucco Solo magia Sono un bugiardo Perché sta cosa me ne ero insegnata di notte Mentre stavo giocando Che io di notte non dormo mai Stavo giocando Comunque se ve lo chiedete No, non è la cazza... La cosa della camomilla È un filo che ho preso da un cuscino Non ci sono neanche i fili, raga Altrimenti ci vedevano Vedete? Guardate Beh, sì Ragazzi, ho voluto un sacco di tecnica Ragazzi, tutti i ritocchi fanno schifo Ma questo è veramente irraggiungibile Guarda Eh no, non è gli altri video Com'è quello che tutto posso... Lasciamo stare Tutto a posto Tutto a posto è meglio Tutto a posto Cosa, scusa? T'ho sentito E non t'azzardare Ti faccio diventare una tromba Non t'azzardare mai più Beh, ragazzi Come avete notato dalla data Ovviamente i TikTok non li faccio più da un po' tutto di tempo Quindi sto facendo un pochettino di più YouTube Quindi, raga Io spero che questo video vi sia piaciuto Mettete like e condividete se volete E mi raccomando Iscrivetevi al canale Che siamo 11 iscritti Per arrivare anche a 15 Se ci arriviamo, magari Facciamo piano piano E niente, ragazzi Per questo è tutto Ciao, ciao